Per una squadra molle c'è un rimedio e l'ho portato io oggi è un... Ha la difesa palindroma qui, ok poi anche la bilaterale eccola qui, ali può essere anche incrociata questa qui penso sia una la miglior soluzione per oggi per i milanesi Bello che è Chirico e Furini si sono divertiti è un grande Scusate, lo guardo assassino di Suma io vorrei evitarlo Suma e Ruiu non hanno credito Ma Ruiu non fa una piega non muove un muscolo Ruiu non muove un muscolo da quando è entrato, è pazzesco Prego Furini Vi informo cosa l'hai tirato fuori di nuovo Adesso l'attacco Perché adesso comincia a diventare davvero Sì, sì, sì Non dico necessario un po' sotto se la stanno facendo Però è usato, eh Oh, è usato Oggi l'hanno usato loro No, come usato? Eh no, oggi l'hanno usato loro Hai visto come se la facevano sotto? Ma che schifo, dai È una XXL questa qua? È una XXL questa qua Ma è giusto per adulti, insomma Devo dire che Fontonale ha fatto a sua sponte Vorrei invitarti però, Davide A non mandare degli SMS al povero Ruiu Mentre ha il lavoro che sta facendo Con la cadermina Perché già è depresso di suo In più tu Lui ieri mi ha stuzzicato Io gli ho detto Alla fine del primo tempo Stai tranquillo Che adesso pareggiati Lui ha svaccato subito Sicuro che vinciamo Ah, sì? Sì, sicuro Allora gli ho scritto Vabbè a questo punto Vedi come lo guarda Vedi come lo guarda Suma Perché adesso Suma giustamente Da casa sono letteralmente scatenati